e bentornati in collegamento in diretta il chip count in questo momento a 4 left vede lupinetti con 10 milioni e 8 gaudioso con 10 milioni e 8 luigi annis con 9 milioni e magno gasparotto 5 milioni 5 milioni 300 mila ai piedi del podio tutti e quattro sono ormai vicini al podio vedremo chi non riuscirà a salire ma io ricordo anche una cosa per sentire che i primi tre dovrebbero in teoria vincere anche un ticket per la kermess di maggio sì vincere un ticket per il main event dell'italian series of poker 2014 ma in realtà in questo torneo i ticket per il main event saranno 5 e anche i tedeschi che è già uscito lo vediamo inquadrato in questo momento chip count in quinta posizione giuseppe tedeschi parteciperà al main event dell'italian series of poker lo stesso per gasparotto annis lupinetti e michele gaudioso questo perché l'accantonamento sul monte premi ha permesso di raggiungere una cifra tale da poter coprire i cinque ticket per questi cinque giocatori ricordiamo campionato italiano 2014 il main event da 990 euro e intanto abbiamo visto maglio gasparotto foldare da otg a su 6 off mentre luigi annis in questo momento sta pensando da bottone con k jack che cosa fare rilancia a 575 mila michele gaudioso con k donna conoscendo l'aggressività del giocatore sicuramente farà una 3 bet vediamo prende in mano una pila di chip michele gaudioso folda lupinetti e vediamo annis che sta pensando giocatore più conservativo sta preparandosi a collare e infatti andiamo a vedere il flop 74 26 le percentuali per gaudioso donna 10 9 attenzione scala subito nat al flop per luigi annis che vede le percentuali passare al 91 per cento un board veramente impegnativo per gaudioso per evitare di creare danni irreparabili bet un milione e tre per gaudioso attenzione rilancia luigi annis attenzione perché potrebbe essere un momento molto importante per questo final table e manda all in gaudioso snappa luigi annis k jack per luigi annis e michele gaudioso con la sua donna deve sperare in un jack per splittare 10 un'altra donna per lui per vincere il piatto 5 di fiori e vince il piatto luigi annis e disastro atomico per michele gaudioso che rimane con pochissime chip aspettiamo di sapere il chip count eccolo qua un milione trecento quarantacinque mila chip per michele gaudioso un disastro atomico per il giocatore che ha vinto il ppt di san ben san ricordiamo tra l'altro san ben san la sede dove si svolgeranno le italian series of poker 2014 gaudioso che ha preso un colpo veramente veramente brutto gasparotto nel frattempo si guarda intorno sulla sinistra hanno il tabellone per vedere i blind del torneo torneo che colpo che colpo altro giro altra corsa gaudioso eccolo qua è proprio affranto dal colpo che appena visto 4 e 3 per michele gaudioso guarda le sue carte e le mette tutte in mezzo lupinetti 6 e 5 chiede quante sono ma con la montagna di chip che si trova davanti chiamerà l'all in di michele gaudioso è infatti col adesso tocca a maglio decidere maglio gasparotto jack e 8 per gasparotto fa pure lima jack e 8 potrebbe essere la sua mano buttaria maglio ma si folda 3 4 5 6 jack 10 per luigi annis che si appoggerà anche lui che fa col infatti andiamo a vedere il flop per questa mano che vede in all in un gaudioso rimasto corto rimasto corto giustamente ha messo tutto nel mezzo con una mano legittima legittima perché per le fischie gli sono rimaste tre giocatori nel piatto su quattro vediamo il board cosa recita il board al momento aiuta lupinetti trova un bel 6 check check di tutti i due giocatori ah altro 6 per un bel set di lupinetti addirittura chiude poker chiude poker per lupinetti incredibile lupo lupinetti che mette qualcosina obbligato ed è un poker per lupinetti che condanna in quarta posizione il vincitore del people's poker tour di San menzana altra bella prestazione di giuseppe tavolo finale quarto posto michele gaudioso michele gaudioso adesso ogni tanto c'ho dell'apsus nonostante che ho davanti il cheat count va benissimo eccoli qua sono rimasti in tre tra di loro il vincitore di questo isop deep experience dex 4 24 milioni per lupinetti 7 milioni e 4 per annis e 4 milioni e 6 per maglio gasparotto insomma un maglio gasparotto che è riuscito a scalare questa classifica fino ai top 3 quindi al podio grande maglio outsider porta avanti i colori di god poker sono doppiamente contento eccoli qua i trofei belli per questo per vincere questo per vincere questo dovresti riuscire ad arrivare a non tiltare a un dex almeno nei primi tre senza tiltare potrai provarci almeno nei primi tre ora vediamo adesso maglio da bottone k10 per maglio gas un total chilo ricordiamo anche la grande passione di mandio eh a corsa e infatti ogni tanto si spara qualche maratona in giro qualche chilometro non so cosa fare ma c'è la maratona un attimo lupinetti jack jack annis assodonna e gasparotto k10 un macello all in col esce dalla mano gasparotto che dice fate voi assodonna per luigi annis jack jack per fabio lupinetti i templari contro il team floras attenzione perché qua maglio potrebbe addirittura se starsi in seconda posizione eh se il lupo tiene il colpo il lupo tiene il colpo se il lupo tiene il colpo non lo so 4 9 8 e per ora maglio vede sempre avvicinarsi al secondo posto 6 di quadri c'è anche un tutti i quadri e 2 di picchi arriverà attenzione double up per luigi annis guardate il disappunto di lupinetti che si vedeva già vincente su questa su questo spot effettivamente toglieva anche tutti i quadri ma maglio è rimasto gasparotto rimane lì e si bilanciano un po' gli stack degli altri due giocatori donna a 7 guardate annis com'è concentrato e adesso per maglio la vedo dura però eh la differenza di stack è veramente tanta deve giocare contro due giocatori davvero veramente difficile peccato per quella donna al river perché ma di maglio gasparotto si può dire la tenacia ha del mulo ma di certo ha del gran colpo di tosse per max greco e beh jack e 8 donna 7 jack e 8 gasparotto quello che fa sempre rima però eh è sempre lui è la sua mano e andiamo a vedere come va flop fortuna meritata però dai eccolo qua 5 asso 7 turn uffi la dà la mano molto tranquillamente check check 10 check a gasparotto annis prepara le sue chip e qua come la vedresti una mossa di gasparotto all in dopo il bel di annis non lo fa non lo fa beh non sarebbe male eh su un board del genere solo con un 9 però su un board del genere non sarebbe male come mossa eh quindi pensa no ma però è poco per lui un 9 in cast per come lo conosco infatti cold va beh però già tanta roba essere arrivati qua in un evento da record lui che mi sembra che era il primo evento in un certo momento uno dei primi eventi comunque sì 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 quindi grandissimi complimenti a lui eh annis chip leader con 17 milioni 730 mila lupinetti 14 milioni 955 e maglio gasparotto 3 milioni 380 mila sono rimasti in tre tra di loro il vincitore del Dex dei record facciamo una previsione qual è il tuo il tuo pronosticato il mio pronosticato diciamo che io vedo vabbè prossimo out forse anche per le chip gasparotto e poi un bel head up tra annis e il lupo lupinetti e lì se la giocano veramente perché sono tutte e due due bravissimi giocatori e staremo a vedere se il guru delle trasmissioni indifferita riuscirà ad avere la meglio sulla pensa se non dovesse andare come dico io sarebbe agghiettiente all in di gasparotto con jack e otto ancora per 2 milioni 770 annis un call facilissimo eh 6 e 7 e deve metterne 2 4 e 20 diciamo che è un call abbastanza al limite se dovesse farlo eh un 60 e 40 non lo sa però sta facendo sì con la testa bravo anch'io l'ho notato da come fa secondo me incline al call eh vediamo quant'è a richiedere però per me sai che potrebbe anche chiamare questo punto eh ma è qualcosa che lo sta spingendo al call eccolo qua e ha fatto call annis e adesso vediamo la mano decisiva per maglio gasparotto potrebbe fare double up oppure out oppure out no dai se fa questo è giustamente però anche qua tratteniamo il respiro perché è importantissimo 4 4 4 k tiene il jack e otto di gasparotto 9 tiene tiene annis basta river però eh sei a river ed è player out in terza piazza maglio maglio gas gasparotto si abbraccia con Fabio Lupinetti e abbiamo i due giocatori che si contenderanno la vittoria di questo Dex un Dex storico il Dex di gennaio 2014 a tra poco a tra poco Grazie a tutti.